RASFORD Gran palla in mezzo, poco profondo per Henry Kane Ottimo intervento nel quartiere Attenzione a Henry Kane Lingard Prova in porta Attenzione a Henry Kane C'è la conclusione Attenzione occasione Attenzione Occhio cerca l'area di rigore Idrissa Gueye Dzieje Lewandowski Ecco il tiro Tire che si allunga e sventa la minaccia Rodriguez Ma la filtrante di Kames Occhio a Falcao Forse non sarà elegante come altri Occasione d'oro Blaszczykowski Gran palla di Lewandowski Altro tentativo Coralia C'è la visione Questa sia la visione L'amoranza bia Tarno